Mi avvalgo della facoltà di non rispondere fino alla partita di domani sera, però non mi sembra adesso che si aprano fascicoli di inchiesta su una discussione fra giocatori di calcio e tifosi, penso e spero che ci siano cose più importanti di cui occuparsi, una cosa su cui lavoro da Ministro è accelerare sulla costruzione di nuovi stadi, più moderni e più sicuri in tutta Italia, perché non possiamo permetterci di avere stadi troppo vecchi e troppo poco sicuri rispetto agli standard europei. Il Governo deve preparare le linee fondamentali, merci? I fondi europei non vanno per gli stadi, questo mi sembra evidente, e conto che i privati possano fare tanto, a Firenze come a Milano, come a Torino, come a Roma, non si capisce perché debba essere il privato cittadino che magari allo stadio mai ci va nella vita a bagarsi uno stadio e quindi spero che si faccia in fretta.